Oggi una delegazione della regione Lazio guidata dal presidente del consiglio regionale Antonello Origemma è negli Stati Uniti dove al Kennedy Space Center in Florida assisterà al lancio della missione AX-3 organizzata dalla compagnia americana Axiom Space alla quale parteciperà il colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei che volerà per due settimane sulla stazione spaziale internazionale. L'equipaggio sarà composto da quattro membri. Il Lazio ha un patrimonio d'eccellenza nel settore aerospaziale, dell'innovazione e dell'elettronica avanzata con circa 300 aziende che operano in tale ambito, ricorda la regione in una nota. Il viaggio negli States segue la missione in Giappone dello scorso dicembre. Quella è stata un'opportunità per certi versi unica per far conoscere ulteriormente le grandi competenze e capacità delle nostre imprese anche in vista di Expo 2025 di Osaka e del Sushi Tech Tokyo 2024, aggiunge la regione. Il presidente di Regione Lazio, Francesco Rocca, spiega che questa amministrazione punta molto sull'innovazione. Verrà fatto il possibile per essere pronti a cogliere tutte le opportunità che offre la New Space Economy.